Partiamo, professor Bellucci, dall'inizio. Qualcuno dice che proprio nel concetto stesso di creazione e di creazione dell'uomo in particolare c'è la concezione ebraico-cristiana dell'uomo che è padrone del destino di tutti gli altri esseri viventi che sono sulla... E dice che questo è una particolarità specifica della tradizione ebraico-cristiana che non c'è per esempio in Oriente, dove invece è tutto fondato sull'armonia di tutti quanti i viventi. Benissimo, questa è una domanda molto bella e che è fondamentale rispondere in modo chiaro. Allora, rispondo come rispondeva Erasmo da Rotterdam, che è stato uno dei più grandi teologi. Erasmo da Rotterdam, poi possiamo citare, è l'altro grande riferimento. Erasmo è stato il curatore, il primo curatore nel rinascimento dell'edizione a stampa in greco del Vangelo. E' quello che ha ritrovato tutti i vari manoscritti, ha stampato, perché l'originale dei Vangeli a cui noi facciamo riferimento è in lingua greca. Erasmo da Rotterdam, teologo cattolico, diceva, per fare riferimento a questo, se io sono padrone, ed era anche un po' umoristico Erasmo, come era il suo stile, Erasmo da Rotterdam diceva, io sono il padrone, colui che controlla il vaso da notte, non me lo mangio però. Cioè, il fatto che io controllo gli animali vuol dire che comunque li proteggo. Anch'io ho degli animali, ho la casa in campagna, ho preso un coniglio perché l'ho preso come animale affettivo, lo controllo, lo accudisco, comunque faccio in modo che lui non danneggi il mio orto, però questo non mi autorizza a ucciderlo per mangiarlo. E' vero però, come dicivi tu, che nell'Oriente c'è un'altra visione, e qui però si entra nella teologia e nella filosofia, perché da noi è entrato Aristotele. Il signor Aristotele ha fatto un grande danno al pensiero cristiano, perché è stato inserito nel Medioevo da Tommaso d'Aquino, e Aristotele non ha ben capito la differenza tra anima e corpo, e per Aristotele già l'uomo, diciamo, anche lì era incerto, non riusciva a scendere l'anima dal corpo del tutto. Negli animali, gli animali non hanno anima. Questa però, esattamente, ma questa non è la visione né della Bibbia, perché la Bibbia dice che ne fesce il soffio di Dio in tutti gli esseri viventi. Beh, la vita è... Esatto, infatti la Genesi... Se uno identifica l'anima con la vita, è in qualsiasi cosa, dal fiore a... Poi possiamo parlare anche dei vegetali. Parliamo anche del paradiso terrestre, no? E di Adamo. Anche le pietre hanno una loro vita, nel senso che è un'evoluzione. E quindi se noi andiamo in profondità, se studiamo seriamente la Genesi, possiamo collegarla con l'Oriente. Però il problema nostro... Mi pare, ecco, da professore... Sì, 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 di storia. Ho chiesto all'insegnante di filosofia che sia stato quello più chiaro da questo punto di vista, e forse più dannefice, tra virgolette, è stato Cartesio. Cartesio poi ha peggiorato, ha peggiorato, soprattutto perché Cartesio, ma poi non tanto Cartesio, ma i cartesiani. Perché poi il problema sono sempre i discepoli, no? Gli aristoteli ci hanno fatto... I semplificatori, diciamo. I cartesiani, c'era Melbranche. Melbranche, che è stato un grande filosofo, però lui diceva proprio, gli animali sono macchine, gli animali non sentono niente. Una volta Melbranche prese a calci un animale, una cagnolina incinta, dicendo, vedi, guaisce perché in realtà non ha sentito dolore. È un meccanismo che la fa guaire. Ecco, questo è la visione dell'Occidente, ma non è l'insegnamento di Gesù. Questo è quello che vorrei far capire. Cioè Gesù non aveva questa visione. Per rispondere sempre alla domanda del libro, Cristo era vegetariano, appunto, interrogativo. Ecco, io cito qualcosina, diciamo. Ecco, citiamo qualcosa, magari leggiamo. Dimmi, dimmi. Allora, io leggerei, pagina 41, oppure a pagina, a pagina... Senti, fatemi fare una piccola pausa pubblicitaria e poi così magari, vedete, mi selezionate alcuni passi da leggere. Indovina che rumore è? Facile, pasta che cade nel piatto. E questo? Pasta che bolle in pentola. Brava, e indovina un po'? È gratis! Alla Coop, tutti i giorni, gratis, una confezione di pasta Coop per i soci Coop Centro Italia. Tutto l'anno, nei punti vendita del gruppo Coop Centro Italia. Iniziativa valida dal 15 aprile al 31 dicembre. Regolamento completo su www.centroitalia.it-coop.it e nei punti vendita. La Coop sei tu! Ad Acqua Sparta, provincia di Terni, lente il rinascimento ad Acqua Sparta. Vi invita a La Riavuta, torna la grande festa del rinascimento. Tutte le sere, dal 17 al 21 settembre, potrete gustare i nostri piatti tipici presso le taverne. Inoltre, martedì 17 alle ore 21, corteo storico. Il 18, 19 e 20 settembre alle ore 21, spettacoli teatrali presso le tre contrade. E sabato 21 alle ore 16, La Riavuta, rivincita di Il Grande Gioco dell'Oca. La Riavuta vi aspetta ad Acqua Sparta dal 17 al 21 settembre. Info 347 6503 053. E allora, eccoci di nuovo insieme. Qui intanto fermano le discussioni. Di che parlavate voi tre? No, no, stiamo cercando dei testi da leggere. Le citazioni, appunto, parlava prima. Stavo leggendo la biografia interessante del professor Valentino Bellucci, che nasce in Germania nel 75. Si laurea a Turbino. Sì, filosofia. In filosofia 110 e l'Oca. Pure io mi sono laureato a 110 e l'Oca, a Roma. Pure io, papà, pelo. Io non l'ho insegnato, però mai. Non c'ho niente da dire, proprio, non ho nulla da insegnare. Una tesi di antropologia filosofica dedicata alle teorie del colore. Sì, è un tema, a me piacciono tutti i temi che sono stati messi ai margini. Quello che non è stato scavato da nessuno. Poi, devi sapere, Giorgio, che è anche un bravissimo pittore. Visto che prima parlavamo di Cristo Pescatore di Uomini, l'ho portato a vedere il bellissimo murale safresco al Duomo, a Terni. E quindi, ecco. Dove insegna adesso? Io adesso sono a Pesaro, in un liceo scientifico, un liceo scientifico Marconi di Pesaro. Purtroppo, essendo precario, purtroppo, sono più di dieci anni che non ho il posto fisso, aspettando sempre. Sono anche andato in pensione da precario, quindi... Eh, questo è molto grave, molto grave. Lo dico con tristezza, perché... Però c'è stata una regolarizzazione, mi pare, adesso? Ma... Se ne vede... Io non vedo gli effetti, sinceramente. Non c'è una volontà... Bisognerebbe fare una legge. Cioè, un insegnante dopo 5-6 anni dovrebbe avere il ruolo. Automaticamente? In un paese civile, secondo me, dovrebbe essere. Automaticamente? Sì, non puoi tenere le persone precarie a vita. Questo significa distruggere la scuola. E poi, tra l'altro, in un secolo, è questo. In un settore così importante come quello dell'istruzione, no? I miei studenti... Ti dico questo, ogni anno io non ho mai avuto due classi, la stessa classe di seguito. Ogni anno devo ricominciare da zero, quindi riconoscere di nuovi ragazzi, riprendere la loro attenzione. E quindi non... E questo danneggia, ovviamente, la didattica danneggia. I ragazzi che soffrono, perché arriva un altro insegnante che ha un altro metodo. E questo è devastante. Avete una presentazione pubblica? Allora, io questo libro lo presenterò a Rimini. Ci sarà il 22 ottobre a Rimini, alla Sala degli Archi, una conferenza dove lo presenterò, quindi... Ufficialmente. Ufficialmente. Poi dopo anche a Roma, nel Nord Italia. Insomma, è un libro che... Ma in questi giorni eterni non... Non riusciamo. No, questa mattina lui è di passaggio e... Magari un altro giorno. Si potrebbe organizzare nel prossimo futuro. Questo sicuramente. È un argomento interessante che spesso si riverbera anche nelle nostre conversazioni radiofoniche. Abbiamo un nostro grande amico, giornalista assolutamente vegetariano, che ha scritto diversi libri su questo argomento. Sarebbe bello che il nostro ospite lo conoscia. Metterli in contatto. Magari. Cioè, perché bisogna creare anche una rete. Una rete, insomma, d'accordo. Ci sono persone che magari hanno questa stessa sensibilità, insomma, no? Certo. Questo modo di pensare. Sì. Che magari approcciano il problema in maniera anche... Da punti di vista anche diversi, di partenza. Sì, sì. Assolutamente d'accordo. Perché il nostro amico di cui... È un laico. È laico. Quindi ha un approccio di quel tipo. Certo. Il nostro nuovo amico ha anche lui un approccio diverso. La fine si parte tutti. La fine si parte di queste cose significa far evolvere un pensiero. Sì. Anche le coscienze proprio le persone. Stimolare, stimolare le persone. Almeno a porsi la domanda, visto che il titolo, appunto, è un punto interrogativo. Poi il lettore, dopo aver letto tutta la storia e tutti i documenti, deciderà lui come rispondere. Io rispondo di sì, perché... Ma mi leggi qualcosa? Come leggete qualcosa? Magari anche il professore. Sì, sì, ho trovato... È la mia lettrice ufficiale. Sono l'altrice ufficiale in carica, attuale. Soprattutto di poesia. Adesso verranno le stagiste del classico, però vabbè dai. Allora, dopo la venuta di Gesù... Già si sente minacciata. Certo. Adesso vado via anche un mese. Giorgio, mi rimpiazzi. Io lo so. Mi dimenticherai subito. Allora, San Girolamo, nell'Adversus Iovignanum, dice... Dopo la venuta di Gesù, non possiamo più mangiare carne. Ecco, San Girolamo è uno dei massimi padri della Chiesa. Ricordo questa cosa. Il San Girolamo è stato il traduttore ufficiale, nominato proprio dal Papa per tradurre tutta la Bibbia in latino, Vecchio e Nuovo Testamento. Quindi, voglio dire, se un santo... Tu lo definisci una figura colossale, un gigante. Colossale, un gigante. Ma non Ratzinger, l'ha detto anche Ratzinger un anno e mezzo fa. E quindi, perché un gigante dice questo? Poniamoci la domanda. Era vegetariano, ovvio. Perché dice che dopo Gesù non possiamo più mangiare gli animali? Perché Gesù ripristina, secondo Girolamo, la purezza della Genesi. Se noi leggiamo la Genesi, cosa c'è scritto all'inizio? Dio cosa dice ad Adamo? Io ti do come cibo i semi, i frutti, tutto ciò che è vegetale. Questo è scritto nella Genesi. Quindi, in realtà, la Bibbia, se uno legge la creazione d'Adamo, Dio progetta, se uno segue l'insegnamento biblico cristiano, progetta l'uomo vegetariano. Poi dopo c'è il discorso del diluvio. Gli ebrei comunque non rispettavano questa cosa, perché gli ebrei comunque hanno avuto influenze pagane. In realtà, il Vecchio Testamento è un grande romanzo, dove si vede come gli ebrei perdono la purezza. E ogni volta, chi viene fuori, i profeti, Isaia, Ezechiele, Daniele, che dicono, basta con questa strage di animali, dovete smetterla. Però gli ebrei, non tutti ascoltavano. È arrivato anche Gesù, l'ha dimostrato dando la sua vita. Infatti, nei detti islamici di Gesù, i detti islamici di cui adesso parleremo, parlerà Vichuambara, Cristo ha detto, carne che mangia carne, che atto vergognoso. Cosa sono questi detti islamici? Uno potrebbe dire, non sapevo che c'erano dei detti islamici di Gesù. Allora, noi sappiamo che i tre monoteismi sono collegati, sono le tre grandi monoteismi abramitici. Tutti fanno riferimento ad Abramo, gli ebrei, cristiani e musulmani. Perché comunque, Maometto, nel Corano ci sono riferimenti a Gesù, a Maria, addirittura c'è una sura dedicata a Maria. Le prime comunità musulmane avevano dei contatti in Egitto con delle comunità cristiane. E da queste comunità cristiane hanno attinto a delle parole di Gesù. Hanno detto, scusate, noi ancora i Vangeli non ce li abbiamo. Voi che seguite il cristianesimo, non è che ci potete dare qualche frase orale. Perché bisogna dire questo, i Vangeli sono dei testi complessi, sono stati scritti molto tempo dopo. All'inizio, quelli che hanno poi compilato questi Vangeli, su cosa si sono basati? Su delle frasi che Gesù aveva detto e che gli Apostoli hanno trasferito. Probabilmente non li ha scritti nemmeno Luca, Matteo. No, 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 no. Anche l'attribuzione del nome è in funzione del senso di quel Vangelo lì. Esatto, di una scuola cristiana. Poi non sono quattro, ma ce ne sono molti altri, ma anche in quelli ufficiali. Poi se vuoi leggeremo i passi di Gesù, dove invito l'ascoltatore a sentire se quella è la parola di Gesù. Dove Gesù dice delle cose sugli animali, dove dice proprio che sono nostri fratelli. Continuiamo a leggere questa cosa.